Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial, in questo video andrò a mostrare come scaricare questo nuovo gioco che è iniziato sempre, Gabby 16bit. Faccio video tutti, diciamo così, ammassati in quanto non ho avuto il microfono per circa una settimana, quindi diciamo devo recuperare tutti i fan che mi hanno detto fai questo, fai quell'altro, fai quell'altro, quindi appunto sono qui per mostrarvi come scaricare questo gioco. E voi vi starete chiedendo, ma com'è che si scarica quindi? E vi basta andare nel link che trovate nella descrizione come al solito e vi porterà alla solita pagina, ovviamente è un'altra pagina diversa ma il dominio è sempre quello. E appunto scrollando la pagina potete vedere qualche screenshot del gioco, ma appunto il gioco è Cluster Track, non l'ho ancora detto, però diciamo era scontato, sì. E appunto per scaricarlo vi basterà andare sul tasto download here di mega.co.nz, io questo vi consiglio ma potete comunque scaricarlo a questi altri download. Appunto poi dopo aver cliccato vi aprirò una pagina di Adfly, attenerete 5 secondi e cliccherete in avanti qui in alto a destra. Dopodiché vi troverete sulla pagina di mega.nz e scaricherete, e cliccherete, scusate, su scarica tramite browser. Dopodiché, appunto dirò cento volte dopo di che, troverete, scaricate questo archivio raro e che dovete andare ad estrarre tramite a semen tipo URL di cui trovate il link del download nella descrizione. Fate appunto estrar i file, facciamo ok e vi troverete questa cartella estratta. Farete dopo clic all'interno, dopo clic ancora, troverete il gioco presente già installato, infatti non ci sarà nemmeno bisogno di appunto installarlo. Quindi vi basterà fare dopo clic successivamente su cluster.exe, scegliere la risoluzione che volete, scegliere appunto l'input e tutte queste impostazioni che vedete qui a schermo e fare semplicemente play. In caso il gioco non dovesse partire, cliccate col destra e fate avvia come amministratore, ma come vedete appunto il gioco funziona perfettamente. Ok, eccoci quindi sul gioco, come vedete appunto funziona perfettamente, ci basterà fare new game e partirà il gioco. Faccio semplicemente vedere che funziona a tutti gli effetti. Quindi questo è il gioco, spero vi è stato avuto questo tutorial, in caso vi siete stati avuti vi invito a lasciare un bel mi piace. È veramente un giochino un po' da spazio, se no comunque se vi piace giocate e niente. Io sono Ivots, se vi è stato avuto vi invito a lasciare un bel mi piace e noi ci vi chiamo nel prossimo tutorial. Ciao a tutti!